Abbiamo progettato il percorso design e management della trasformazione digitale a partire dai più recenti report sull'evoluzione del lavoro a livello internazionale. Tutte le organizzazioni devono affrontare cambiamenti continui, rilevanti e veloci, di cui le tecnologie digitali sono un abilitatore fondamentale. Servono quindi persone competenti e capaci di progettare, ma anche di riprogettare per far fronte ai cambiamenti continui. Il percorso design e management della trasformazione digitale prepara gli ingegneri gestionali da inserire nei team aziendali dedicati alla trasformazione digitale, nei ruoli di digital project manager, digital transformation expert e più in generale di junior manager e PMO. I contenuti del corso includono principi, modelli e progetti di trasformazione digitale con un focus sulla modellizzazione dei processi di business. Inoltre sviluppano soft skills come il lavoro di squadra efficace e la presentazione in contesti pubblici. Si tratta di un'esperienza formativa coinvolgente che vi fornirà sia le competenze tecniche sia le soft skills necessarie per affrontare con successo il mondo del lavoro, come dimostrano i nostri studenti degli anni passati che ora occupano delle posizioni di rilievo all'interno delle organizzazioni. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!